È bellissimo, per noi come Calibro è la prima volta, qualcuno c'è stato tempo fa e oggi, insomma, arrivarci così con un ensemble allargato fa un certo effetto perché ho fatto le prove e tutto... Per noi è particolare soddisfazione venire qua facendo la cosa che facciamo non siamo declinati in alcun modo, non ci siamo declinati in nessun modo speciale per venire qua è semplicemente abbiamo fatto quello che sappiamo fare, piace a qualcuno e allora abbiamo questa possibilità, noi siamo molto fieri e grati Si è riunito prima al CNR, poi ha chiamato l'ONU e poi ci hanno comunicato quali pezzi eravamo in grado di fare Noi siamo molto artigianali in quello che facciamo, noi facciamo musica strumentale quindi abbiamo il bello e il brutto che non abbiamo la possibilità di raccontare storie verbalizzate però in realtà abbiamo un'etica del lavoro molto forte, molto presente in musica noi facciamo musica fortemente artigianale anche ispirandoci alle colonne sonore che sono un genere molto artigianale molto lavorante e per cui cerchiamo di fare sempre quello, di lavorare, lavorare bene e fare musica Ma non so, sicuramente c'è un'area nuova, ecco, però insomma è un segno dei tempi, è bene che si cioè quello che tu chiaminghi è stato Sanremo adesso, quindi voglio dire, forse semplicemente anagraficamente c'è un po' piano piano è la freschezza dei linguaggi che si rinnovano, si rinnovano la popolazione, si rinnovano i linguaggi che parlano alla popolazione che si rinnova e quindi benvenuti, meno male questo è il tasto più terrorizzante della mia vita, se non avessi fatto un musicista che cavolo avrei fatto nella mia vita? non lo so, abbiamo tutti, almeno io personalmente credo, vivo dell'enorme gratitudine del riuscire a fare questo di lavoro e farlo bene ed è quello che mi porta a impegnarmi e a farlo così, non a farlo ah e sono un figo giusto perché no, lo faccio di lavoro perché mi ci impegno e cerco di farlo al meglio, sempre, ogni giorno, ogni momento in cui rispetto probabilmente il fuoco, ecco, questa è la mia seconda opzione del fuoco grazie a tutti